Luca e Antonella, come dice il Vangelo, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E Dio vi serve delle cose piccole per poi farle diventare grandi, come si è servito del vostro amore perché portiate frutto, come dice il Vangelo, e chi ama fa sempre una cosa straordinaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.